Rischiava di diventare un problema per i residenti del quartiere. Pensate all'ipotesi di bambini che incuriositi ci avrebbero potuto giocare. La presenza di un alveare tra i rami di una grossa pianta ha fatto scattare l'allarme. Un'arnia tutto sommato piccola ma con all'interno oltre un migliaio di api. Se si fosse aspettato altro tempo la situazione poteva diventare molto pericolosa. Siamo alla periferia di Molfetta, l'intervento congiunto di polizia municipale e volontari della LAC, la lega anticaccia, che ricorda come le api siano una specie protetta e purtroppo in via di estinzione. Così come abbiamo visto dalle immagini recuperare uno sciame, recuperare delle api è molto semplice, basta farlo alle persone specializzate, esperte. Se dovessimo provvedere noi o al cittadino comune? Io lo eviterei per una serie di problematiche. Uno perché bisogna avere una certa attrezzatura specifica, due perché bisogna avere un po' di esperienza. Le api sono insetti innocui, non aggrediscono l'uomo, che se ne dica insomma. Quindi evitiamo di usare metodi cruenti come spesso avviene. Molte volte ci sono arrivate segnalazioni dove anche aziende municipalizzate utilizzano, ancora tutt'oggi, nonostante l'ape sia un insetto protetto, utilizzano diserbanti o pesticidi per ucciderle. È una cosa molto grave, l'ape rientra a pieno titolo in quella che è la nostra biodiversità. Quindi salvaguardiamola, non produce solo miele, che è il dir comune, ma si occupa anche dell'impollinazione. Quindi è una cosa importantissima per la nostra biodiversità.